Oltre all'ottima cucina e agli spettacoli, a bordo delle navi costa ci sono davvero tantissimi altri servizi che rendono la crociera una vacanza assolutamente speciale. Il guest service è gestito da un team di professionisti che gestiscono gli imbarchi dei bagagli, i pagamenti, le informazioni e qualunque altro tipo di richiesta speciale degli ospiti. Al Ponte Zero c'è addirittura un'infermeria in grado di dare risposta alle esigenze mediche in caso di necessità. Gestito da personale medico-infermieristico specializzato, l'ospedale ha anche diversi posti letto per eventuali degenze a bordo. Alcune navi sono attrezzate anche con macchine per la dialisi, raggi X e sistemi di telemedicina. A bordo delle navi costa c'è anche una cappella. Un sacerdote celebra la messa per gli ospiti e i membri dell'equipaggio. Dietro le quinte di ogni crociera costa c'è una grandissima squadra di persone che instancabilmente lavora per offrire un servizio eccellente, con la massima cura e attenzione per i dettagli. Letro le quinte di ogni crociera costa c'è una grandissima squadra di persone